A Parigi è ormai in piena azione l'ingente operazione di sicurezza allestita per le Olimpiadi che inizieranno venerdì. Con il più grande dispiegamento di forze dell'ordine dalla Seconda Guerra Mondiale, la capitale francese è blindata. Strade e stazioni della metropolitana sono state chiuse, sono state erette circa 44.000 barriere ed è stato creato un elaborato sistema di codici QR per accedere a Lungosenna e alle isole. Circa un milione di persone sono state sottoposte da curati controlli ed è stata interdetta la partecipazione all'evento a circa 1.000 persone per il sospetto di potenziale spionaggio. Parigi sta dispiegando 35.000 agenti di polizia al giorno con un picco di 45.000 per la cerimonia di apertura sulla Senna.